Oh, sì! Sì? Sì! E che pasta? Voglio! Voglio! Adesso vediamo! Devo chiedere prima che fanno Chi? Eh loro, non c'è il problema Ci si piacerebbe Sì? Sì! Oh, sì! Sì! Vieni qui, vieni a dire ciao Anche io ti voglio bene Diciamo a chi ci guarda che questa è la trentesima volta che ti fermi per fare un video Da che gigano siamo? No, no, da che siamo arrivati a traverlo No, forse